Oggi voglio mostrarvi e provare insieme a voi questo aspiratore per puntini neri di Bari Blooms. È un aspiratore con tre funzioni, quella bassa media e quella un po' più alta. Contiene una lente di ingrandimento, ma proviamolo insieme. Vi ricordo che prima di provarlo bisogna fare, come vedete qui nella clip, un vapore almeno per 10 minuti. Allora, che cosa dire ragazze? È un aspiratore super super funzionabile. Come potete notare, va a aspirare veramente tutte le impurità dal nostro viso. Una cosa che vi consiglio è che non provatelo più volte sullo stesso punto. Una volta eliminato il nostro puntino nero, bisogna andare avanti. Voglio farvelo vedere in varie posizioni. Qui sto provando sul mento e non vi dico ragazze le cose che vedo appunto dallo specchio dove mi guardo. Guardate qui il naso, è venuto super super pulito. Ve lo faccio vedere anche da quest'altra angolazione. Ecco qui ragazze, io ve lo consiglio tantissimo questo aspiratore perché lascia la pelle veramente bella pulita, senza impurità. Ma andiamo avanti perché lo provo un altro pochino anche sul naso e sul mento. È un dispositivo che potete acquistare su Amazon a un prezzo veramente basso. Ragazze, guardate il risultato. Queste sono tutte le impurità che sono uscite dal mio viso.